Era salito sulla statua equestre di Piazza Bodoni con degli amici per farsi un selfie, ma è caduto battendo violentemente la testa. È successo nella notte a Torino, nella piazza dove si trova il conservatorio, nel cuore del centro storico della città. La vittima è un ragazzo statunitense di 23 anni uscito con gli amici per una serata in allegria. Forse qualche bicchiere di troppo, forse l'eccessiva imprudenza, fatto sta che dopo essere uscito da un locale, il giovane con la sua compagnia è salito sul cavallo della statua dedicata al generale Alfonso Ferrero della Marmora, noto come la Marmora, per farsi delle foto con il telefonino, scivolando e cadendo di testa. I suoi amici hanno immediatamente capito la gravità di quanto accaduto e chiamato il 118 che è intervenuto subito. Arrivate anche delle volanti della polizia. Ora il giovane si trova ricoverato all'ospedale CTO in gravi condizioni con un trauma cranico e in prognosi riservata.